La Guardia di Finanza ha sequestrato a Palermo in due interventi distinti, 4.077 capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti e riportanti segni mendaci. Nel primo intervento i finanzieri nel corso del controllo economico del territorio hanno individuato un autoveicolo al cui interno c'erano ingombranti pacchi da cui fuoriuscivano alcuni capi di abbigliamento. L'autista del mezzo, un palermitano, non è stato in grado di fornire alcun documento di trasporto né documentazione idonea a comprovare la provenienza lecita della merce trasportata. I successivi mediati controlli hanno consentito inoltre di verificare come i 701 capi di abbigliamento riportassero i brand di note case di alta moda contraffatti. Nel secondo intervento i militari hanno trovato, presso un'attività commerciale gestita dal cittadino cinese, un ingente quantitativo di articoli riportanti segni mendaci e altri capi di abbigliamento, verosimilmente contraffatti per un totale di 3.376 articoli sottopossi a sequestro. A conclusione delle operazioni, i finanzieri hanno provveduto a segnalare alla locale procura della Repubblica i due soggetti perché ritenuti responsabili di avere introdotto nel territorio nazionale per la successiva vendita prodotti con segni falsi, nonché del reato di ricettazione.